Turno di riposo domani per la Serie B e oggi la Fermana si gode il suo primo successo casalingo con una grande amichevole. Per la prima volta la città ospita una nazionale. È la selezione degli Under 21 di Serie B e per questo importante appuntamento che segna tra l'altro l'inaugurazione dello stadio, l'ingresso a Recchioni sarà gratuito. Volta una nazionale nel rinnovato stadio della Fermana salita agli onori della B. Nella giornata di riposo della Serie Cadetta i canarini si sono trovati opposti in amichevole alla nazionale di Serie B Under 21 per una partita che doveva servire soprattutto a sperimentare nuovi schemi e consolidare l'inserimento dei nuovi acquisti. E la Fermana si è comportata benissimo, specie nel primo tempo, quando è passata in vantaggio al 28esimo con un gol di Divenanzio. Ripresa giocata in un tourbillon di sostituzioni e contro una Fermana sperimentale, la nazionale Under 21 va in rete due volte con Tarantino al 15esimo e al 33esimo sul rigore. Giornata positiva per il pubblico, 2000 in tribuna con ingresso gratuito.